C'è una dieta fai da te? Il professionista deve allertare naturalmente la figura del dottore, dello psicologo, in alcuni casi anche dello psichiatra e capire anche come educare al ritorno ad uno stile di vita sano, ad un'alimentazione. E' il caso che parlavamo prima che poi si passa dall'anoressia anche alla bulimia perché poi per reintegrare devi naturalmente non mangiare il cibo spazzatura che poi va soltanto a gonfiarti ma dare degli alimenti che sono nutrienti. Ecco qui poi la visione di pochi pasti, piccoli pasti.